Lei è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Perrino di Brindisi con ustioni di secondo e terzo grado in varie parti del corpo. Lui è finito in carcere con l'accusa di lesioni personali aggravate. L'ennesimo dramma della follia si è consumato sabato pomeriggio a Tuglie dove Alexandru Edek Ionu, un 24enne di nazionalità romena, già noto alle forze dell'ordine per furto e altri reati contro il patrimonio, è stato arrestato poche ore dopo il ricovero della sua convivente perché accusato di averla aggredita anche alla presenza dei figlioletti di 1 e 3 anni. La donna, che ha 24 anni, è stata accompagnata d'urgenza presso l'ospedale Antonio Perrino. Gli accertamenti dei carabinieri di San Nicola, scattati immediatamente dopo il soccorso da parte degli operatori del 118, hanno permesso di accertare come in quell'abitazione in via Cairoli, pochi minuti prima, fosse avvenuta quella maledetta ennesima lite per futili motivi che ha rischiato di provocare conseguenze ancora più drammatiche. Alla presenza dei due bimbi, infatti, il 24enne avrebbe cosparso di alcol la ragazza sua coetanea e connazionale, dandole fuoco in un raptus che si è placato soltanto con l'arrivo del personale del 118 e dei militari della compagnia di Gallipoli. I sanitari sono stati allertati dallo stesso autore del gesto che si è reso conto della gravità dell'aggressione. La donna è stata immediatamente medicata e accompagnata ad urgenza a Brindisi per poi essere raggiunta dai carabinieri del nucleo investigativo Brindisino, allertati dai colleghi Salentini. Lei avrebbe dapprima sminuito la gravità dell'evento, cercando in una sudditanza psicologica nei confronti del compagno di attribuire il tutto ad un incidente domestico, salvo poi scoppiare in un pianto liberatorio e ricostruire insieme ai carabinieri quanto realmente è accaduto. I militari, valutati tutti gli elementi e raccolte le schiaccianti prove, hanno arrestato il cittadino rumeno che, secondo quanto disposto dal PM di turno Stefania Mininni, è stato trasferito presso il carcere leccese di Borgo San Nicola.